E' stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto Maurizio Ciociola, 28enne di Manfredoni, accusato del tentato omicidio a mano armata dal 23enne manfredoniano Flaviano Fariello. Il fatto è successo il 7 gennaio scorso, quando il pronto soccorso dell'ospedale di Manfredoni ha allertato i carabinieri segnalando che un giovane era giunto lì perché ferito a entrambe le gambe da colpi di arma da fuoco. Dalle serrate indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Manfredoni e soprattutto dalla raccolta di testimonianze e dalla visione di immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza è emerso che poco prima, sulla via Giuseppe Di Vagno, Fariello era stato raggiunto in strada da Ciociola. Al termine di un alterco, quest'ultimo esplosò due colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto alle gambe Fariello mentre tentava di scappare riuscendo alla fine a fuggire con la sua auto lì parcheggiata. I militari hanno rivenuto tracce di sangue ma non i bossoli esplosi nell'arma utilizzata. Subito dopo l'evento, Ciociola è fuggito, facendo perdere le proprie tracce ma è stato in breve tempo rintracciato a casa della madre. Al termine delle formalità di rito, il fermato è stato associato al carcere di Foggia. La vittima, che è versa in condizioni stabili, non è in pericolo di vita è ricoverata presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo dove è stata sottoposta a intervento chirurgico per rimuovere un proiettile rimasto in una gamba. Continuano incessanti le indagini per individuare eventuali altri complici del Ciociola nell'aggressione e chiarirne il movente.